Abbiamo acquistato una nuova nave spaziale, quelle che rientrano all'interno della categoria Legendary. In molti scrivono ma su quali basi è opportuno discriminare, selezionare per investire, in questo caso all'interno di Star Atlas, su una o più navi o navicelle spaziali. Andiamo per gradi. Innanzitutto ci sono tantissime informazioni che stanno uscendo sul progetto Star Atlas in questi ultimi giorni, a cominciare anche da richiami all'interno dei media tradizionali. Qui potete notare addirittura il cameo che è stato fatto all'interno della nota trasmissione sulla CNN con il conduttore Richard Quest che fa comprendere tutto il potenziale che dovrebbe avere anche questo tipo di progetto. Noi nello specifico siamo andati ad inserire tatticamente la Ogrica Freepid, che è questo fighter, large fighter, che è stato selezionato e individuato anche a fronte della, tra virgolette, consulenza ricevuta da un giocatore professionista che ha fatto comprendere il potenziale che hanno alcuni digital collectibles all'interno delle economie di gioco. Se qualcuno si ricorda, 10 gioia la settimana scorsa, avevo fatto vedere che all'interno del portafoglio vi erano tre navi spaziali. Ebbene, è stata ceduta la Vizus Ambie ed è stata sostituita con la Ogrica Freepid. In questo momento la società è esposta per circa 15.000 dollari di controvalore, in particolar modo con tre modelli che sono considerati complessivamente di punta, il calico Compact Hero e la Pierce F4. Ma perché la Ogrica Freepid? Una delle elementi di discriminazione che, a nostro modo di vedere, bisogna andare ad analizzare è la Available Supply, cioè quanti pezzi ci sono di quella navicella, perché poi, come abbiamo spiegato anche in precedenza con una sessione su Star Atlas, saranno funzionali a raggiungimento, al perseguimento di determinati obiettivi l'utilizzo di alcune navicelle, proprio perché hanno delle funzionalità e delle caratteristiche che li distinguono, ad esempio, dagli altri. Quindi abbiamo 729, significa che più avanti nel tempo, quando si plausibilmente inizierà a giocare, molte di queste navicelle verranno distrutte, e quindi non saranno più disponibili. Abbiamo fatto comprendere come l'NFT, il valore dell'NFT, qualora la navicella venga distrutto, andrà a zero, e quindi, mentre chi distruggerà quel tipo di navicella, otterrà un reward. E pertanto è fondamentale analizzare quante ce ne sono, poi il differenziale di prezzo che c'è con l'Origination Price, vale a dire, queste navicelle, queste navi spaziali, cambiano abbastanza costantemente di prezzo, anche in relazione a quella che è la dinamica di mercato. Ebbene, in questo momento sono tutte prezzate a livelli superiori rispetto al momento di lancio, e io ho notato che più è grande la nave spaziale su cui si è andati ad investire, più il prezzo tende ad essere poco correlato rispetto all'andamento di mercato, e questo anche ha una sua logica, proprio perché ci sono pochi pezzi, man mano che la quotazione scende sotto determinati livelli, arrivano gli acquisti. In tal senso, ad esempio, a nostro modo di vedere, potrebbe essere interessante andarsi a posizionare non più sotto, o per finalità di investimento, lo ricordo sempre, investimento non sotto la categoria cosiddetta rarity medium, o in buona sostanza sotto anche il calico compact hero, che in queste ultime giornate, vedete, 1.233 pezzi, sono pochi, e se andate a studiare le caratteristiche distintive di questa nave spaziale, vi accorgerete che può essere particolarmente utile attraverso determinate strategie di attacco. Il prezzo, anche nel caso dell'accalico, è sceso moderatamente in queste ultime sedute di negoziazione, tutto sommato, noi ci troviamo, nonostante quello che è accaduto sul mercato in queste ultime dieci giorni, in una posizione di equity positiva, e sto notando appunto che le navi più sono grandi, più tendono ad essere resilienti. Perché le navi vengono acquistate? Per due finalità. Primo, perché a breve dovranno essere messe in staking, c'è la possibilità di metterle in staking. Anche la Pirsa F24, avete 2.221 prezzi, e un prezzo che al momento del lancio era di 2.500 dollari, e adesso è sotto, chiamiamola così, la pari. quindi chi ha una visione complessivamente di tatticismo su, o di investimento tattico, o una convinzione sua personale sull'ex plua che potrà avere questo gioco, al nostro modo di vedere, piuttosto che andare a comprare terra in altri metaversi, che ormai è strainflazionato, quel tipo di potenziale, forse dovrebbe andare a fare una serie di considerazioni, su questo tipo di universo di ecosistema di gioco, che potrebbe letteralmente esplodere. Con la nuova società che verrà creata ad inizio anno, che sarà una nuova SPV, un'altra Special Purpose Vehicle, si andrà probabilmente ad acquistare in pull, assieme ad altre controparti, una di quelle più appesanti, in buona sostanza, e sappiamo che ne dovranno anche, dovrà arrivare anche la categoria Ultimate, quindi quella non plus ultra, che consentirà, vedete che arrivano a costare quasi 50.000 dollari, però ci sono 170 pezzi di questa, quindi quando dovete andare a fare un determinato tipo di attacco ad un altro paese, un'operazione di colonizzazione e così via discorrendo, vi serviranno determinati tipi di beni strumentali, una di queste è la Ogrica, che ha un potenziale distruttivo particolarmente elevato rispetto ad altri, ad esempio il calico serve per effettuare delle missioni soprattutto esplorative, io a livello personale ho acquistato proprio quella che ha smobilizzato la società, ossia la Vizus, come potete notare ci sono 4.700 pezzi, il prezzo l'ho acquistato perché era sceso abbondantemente sotto l'Origination Price, che era di 1.200 dollari, anche adesso tutto sommato si sta comportando bene, lo ripeto ancora una volta, è un acquisto assolutamente speculativo, ultra mega speculativo, con l'aspettativa che nel futuro ci potrà essere un utilizzo massivo di questo gioco, con un successo su scala planetaria, quindi adesso stiamo ancora in una fase di conoscenza del progetto, e soprattutto anche di diffusione a livello mediatico, che si inizia appena appena a percepire, tanti mi scrivono, io ho comprato qualche pezzo della Pierce X4, la Pierce X4 come potete vedere è sostanzialmente una space bike, cioè un velivolo per spostare un singolo pilota, quindi ha delle limitazioni, costa una sciocchezza 20 dollari, e guardate quante ce ne sono, 130, quasi 130.000, la cosa significa questo? Che quel tipo di asset, e oltretutto anche qui siamo sotto l'origination price, però uno va a spendere insomma di 17 dollari, per una space bike, non so che tipo di ritorno potrà avere, soprattutto in relazione a questo tipo di numeri, serviranno ovviamente per giocare, questo è in dubbio, a seconda del tipo di aggressione, di esplorazione, di strategia spaziale che si vorrà andare ad implementare, serviranno anche queste, però nel lungo termine avranno un potenziale di rivalutazione notevolmente più contenuto. mi stavo dimenticando poi anche di farvi vedere un altro elemento distintivo, che era legato, ah sì, sul fatto che a mio modo di vedere è più conveniente acquistarle non con Atlas, cioè non andando a swappare Atlas, ma direttamente USDC, USDC ovviamente lo acquistate all'interno del mondo Solana, e viaggia alle stesse condizioni di trasferimento tipiche di tutti gli asset di Solana, quindi è impercettibile. Arrivate al punto tale che quando acquistate, ad esempio, anche una nave che può avere un controllo di 1000 dollari di mercato, e quando andate a fare la connessione con il vostro wallet, io consiglio Phantom, vi possono rimanere, residuare poi, delle frazioni di USDC, tipo 70 centesimi, 80 centesimi, che troverete nel inventario, insieme all'NFT della nave. In questo caso, voi potete anche andare a ritirare, il residuo dei USDC, anche se fossero a 30 centesimi, perché tanto il costo del ritiro, del withdrawal di quei 70 centesimi, in percentuale, scusate, in percentuale è rappresentato da millesimi, centesimi di centesimo di dollaro, quindi anche se avete 70 centesimi, fate le operazioni che ve ne ritorneranno indietro 69,99 periodico, quindi questo tipo di operazione è impensabile di poterla strutturare, addirittura con Avalanche, perché anche Avalanche ha commissioni che viaggiano intorno ai 30, 40, 50 centesimi a seconda. Comunque, in definitiva, per avere poi l'astronave, ossia, in questo caso qua, l'NFT, quindi il Digital Collectibles, una volta che lo avete acquistato, lo dovete poi caricare nell'inventario, non è che ci voglia, chissà che grande difficoltà per effettuare questo tipo di operazione, agganciate il vostro wallet, e vi troverete nell'inventario l'NFT, che poi è fondamentale averlo qui, per andarlo poi a rivendere. L'operazione di smobilizzo della settimana scorsa della Visus è stata fatta anche proprio per testare e valutare come funziona, nel suo specifico, il marketplace, per vedere la robustezza, l'efficienza, l'onerosità, se utilizzate appunto gli USDC, il costo complessivamente è un pelino un po' più contenuto, si vengono applicate poche fee di negoziazione, trading fee, meno di 5 barra 6 dollari, per accostare una nave che vale 10.000 dollari circa di controvalore di mercato. A grande richiesta, stiamo organizzando una super live, probabilmente prima di Natale, con un pezzo grosso proprio di tutta a Star Atlas, lo faremo in lingua spagnola, con il fine di far conoscere meglio il progetto ed il suo potenziale nell'aspettativa, che poi possa dare veramente grande soddisfazione. Nei prossimi mesi, in descrizione trovate ulteriori approfondimenti, per comprendere il potenziale che hanno, non le navi, ma alcune navi in relazione alle loro caratteristiche belliche e di strategia di gioco.